è uscito il trailer del corvo siamo pronti per vederlo si ho acceso il microfono per un attimo ho detto oddio ma non è che l'ho spento siamo pronti allora sono qui con il mio ipad super super curiosa calcolate che ho tipo i brividi ah già ho visto un po' il trucco nell'anteprima prima di tutto tre minuti del trailer ho visto il teaser mi è piaciuto un sacco tutte ste mani sto liquido rosso che inizia con la s che non posso dire altrimenti youtube sarà un sacco allora sono molto curiosa non è il teaser mi è piaciuto il trailer boh mo lo vediamo like commento seguitemi su instagram e tiktok vi parlo una cifra di cinema su tiktok però lo so che vi sentite vecchie però è tipo il è solo che instagram è cioè ogni volta che uno pubblica una roba risucchiato da una cosa soprattutto su instagram non si può parlare di horror perché non so se avete visto ma se voi scrivete horror su instagram e cercate i tag tipo pensa che voi ci avete problemi e vi volete far del male inoltre codice sghiccio sul sito di pampling il sito di pampling lo conoscete insomma è un codice affiliato io ce l'ho una cifra una percentuale quindi se usate il codice sghiccio o lo fate utilizzare mi aiuta una cifra poi se vi fate regalarmi che ne so i soldi così grazie molto piacere ma iniziavo a vedere il trailer di il corvo sono un po' disorientata è un po' troppo sui sets che come sapete il primo a me era piaciuto però c'aveva un taglio molto spirimpino non troppo sul serio qui teoricamente dovrebbe essere non lo so forse c'ha altri tratti non lo so sinceramente sono un po' c'è nei primi secondi subito gli app e roba così boh cioè ma la canzone che cos'è? oh sì o no che accento ha il skyscrap qua? è un inglese strano che inglese è? boh allora allora ho tante cose da dire allora credo che questo target cioè vi dico per assurdo secondo me lo sapete forse chi era la prima scelta forse perché il progetto si è mosso troppo avanti quindi è diventato troppo vecchio tra mille virgolette secondo me è perfetto secondo me sarebbe stato perfetto Evan Peters credo che la visione per fare questo film sia stata un po' prima stagione di American Horror Story il target è un po' io vi dico ragazzine ma semplicemente siamo pure io e voi dai su sinceramente Evan Peters siamo a sbavacce tutti qua siamo tranquilli credo che il target sia effettivamente ragazze molto giovani per via della musica trap e roba così nello scorso video vi ho fatto tutto un discorso su come per forza di cose trattandosi di una nuova generazione i target e i codici delle sottoculture sono cambiati e quindi anche il concetto di bad boys bad boys scusate ha un altro codice a livello estetico comportamentale eccetera eccetera quindi ha il concetto del maranza di tutta sta roba e molti mi hanno scritto sì ma ancora oggi ci sono i got sì che ci stanno ma non è quello che vogliono le ragazzine vogliono magari young blood le ragazzine machine gun kelly ma non è che vanno er tizio capito metallaro col cappottone lungo che imita matrix capellone cioè non è l'estetica di ora poi non sto dire che sono brutti e roba così sti cazzi mi chiami sdraia io che me frega però oggettivamente non è quello che viene considerato desiderabile adesso non è una sottocultura da adesso la gente fa scritto i gotti ci sono ancora i rocker sì sì ma ai 15 anni se tu vai dentro una classe una scuola non ce ne saranno tanti quanti c'erano nella mia epoca nella mia epoca c'erano le zecche i variolini i metallari gli emus sono venuti dopo adesso è diverso adesso c'è il maranza magari il trapperino la tizia boh non so non so non so non so al passo con i giovani la e-girl la clean girl cose così sono cambiate le cose quindi è molto probabile che qui hanno mantenuto dei toni tipici come per esempio il cappotto lungo e diciamo questo aspetto un po' dark però è normale che ci sono dei codici che oggi la nuova generazione conosce perché quelli degli anni 80 e 90 sono diventati ormai decrepiti oggi stiamo a parlare dei 40 anni fa oh sveglia 40 anni fa sono gli anni 80 è normale che quindi ci sia un update inoltre sono molto curiosa visto che il corvo è tratto da un fumetto voglio vedere com'è il personaggio di eric nel fumetto ah questo trucco con le lacrime eh si le labbra non me le ricordavo fossero effettivamente così giocheresche diciamo però effettivamente anche in quello originale ce l'avevamo quindi si comunque madonna mia c'è molto che nel guerriero onestamente con i buchi sul petto o roba così ehm sì allora secondo me il codice è perfetto ci sono delle inquadrature che sono anche molto belle a livello visivo quindi secondo me dovrebbe esserci anche una certa cura attenzione per quanto riguarda la regia la composizione delle inquadrature sembra molto bella però io ve lo dico secondo me è un target giovane questo si vede molto da anche un po' estremo si punta molto sulla storia d'amore ma è sempre stato per ragazzi per ragazzini diciamo il corvo per far sognare gli adolescenti o post-adolescenti cioè non era un film d'autore per adulti per vecchietti dei 60 anni era un film per ragazzini e Dio guarda guarda che figo di Cristo che è Brandon Lee punto e sognare che capito pure loro sarebbero state salvate da Brandon Lee figo di Cristo tutto in latexito eccetera e questa è la stessa identica cosa ci sono certe scene che sono molto fighe molto cruente ma si vede già da subito l'attenzione che c'è per il corpo di Bill Skarsgård e vi dico per me è molto rischiato questo film per la sua carriera sta facendo fin troppi remake forse però trovo interessante questo cambio nell'avvicinarsi a un tipo di prodotto in cui il suo personaggio è un sex symbol è molto interessante perché così cambia un pochino il genere perché aveva fatto già due horror hit barbarian mentre invece qui può ampliare diciamo il suo tipo di immagine e credo che sia una scelta giusta lo sarà questo film in particolare non lo so sono molto dubbiosa credo che ci sarà tutta un'ondata d'odio che dirà questo è una ragazzina e grazie al cazzo cioè quello che cos'era tutti i film con le dudine o le tizie a caso che stanno in topless che cos'erano su dai i film pro mamma mia gli devi proprio fare la caressina sulla testa il bacino in fronte e fai capire come si chiama un po' santo cielo il film il trailer mi ha molto fomentato sotto tanti aspetti a livello statico lo trovo proprio bello di composizione delle immagini molto molto evocativo poi per il resto si basa molto sull'azione secondo me molto di più rispetto all'altro a quello originale molto più cruento e gore e ci sta sono molto curiosa della colonna suonare che onestamente mi sembra figa mi sembra molto interessante una sorta di mix tra trap e rock un po' più scuro così vediamo vediamo sono molto molto curiosa Bill Skarsgard convince me convince proprio figo de cristo si è fatto il fisico giustamente ci mancava pure che andava lì capito una scarpa una ciabatta a fare il ruolo del figaccione si è preparato va a parte giustamente che devi fare è come se una la chiamano per ruolo che ne so una spogliare il list e si presenta lì con dieci chili fuori forma senza muscoli e roba così che devi fare insomma una situazione molto 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 curiosa ma a voi come è sembrato questo trailer io capisco che magari capendo questa roba cioè ovvero che ha un film per ragazzine è sempre stato magari faccia un po' male cioè pure a me mi fa male perché ho capito che io mi sono vecchiata però ci sta cioè può essere qualcosa che magari non è nella tua fantasia è in quello che ti piace però allo stesso tempo ci sta e quindi non lo so sono molto curiosa e avendo questo queste tinte un po' all'American Horror Story e a Van Peters della prima stagione mi hanno comprata tutto sto sangue tutta sta gente sporca di sangue mi ha comprata quindi sono molto 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 curiosa ma questo bambolì di casa era tutto voi cosa ne pensate potemelo sapere con un commento qui sotto e tu 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 noi ci vediamo nel prossimo video bambolì di stancas ciao